Il progetto del raddoppio ferroviario tra Termoli e Leisin ha ottenuto il via libera del Precipe, presto potrebbe passare alla fase esecutiva. Il Movimento 5 Stelle avverte però che con la nuova linea in città raddoppierà anche il numero dei treni e il conseguente rumore. Ad oggi ha spiegato il consigliere Nicola Di Michele, non sono previste delle opere per limitare i problemi che sorgeranno e il Comune ha aggiunto rilasciato un parere favorevole senza considerare questi aspetti. Di Termoli si sono assolutamente dimenticati. Noi avremo treni che sfrecceranno ogni 8 minuti sulla nostra tratta ferroviaria. Non c'è assolutamente nessun beneficio per la città. Addirittura qualcuno paventa di spostare la stazione presso un altro sito che è quello di Pantano Basso, cosa che noi assolutamente diciamo di no, perché noi non vogliamo che una stazione storica come quella di Termoli, forse la prima in Italia, debba essere portata in un posto dove non ci andrà più nessuno. Di Michele ha fatto il punto sull'opera insieme agli attivisti Valerio Fontana e Giulio Botteri. Il Movimento 5 Stelle ha evidenziato i dischi per i cittadini rispetto a un progetto che ha spiegato va realizzato ma a determinate condizioni. Ci sono dei documenti del Ministero del 2004-2008 dove dicono che assolutamente non si poteva fare quel tipo di progetto se non ci fossero state le giuste mitigazioni, quali il piano antirumore e tutto il resto. Dal progetto che viene fuori in questi giorni si vede chiaramente che questo è stato messo da parte. Il raddoppio parte dal chilometro zero, cioè dalla rotonda di Mimmo Cannone per essere chiari e tutto il resto della città viene tagliato fuori. Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere un consiglio straordinario per trattare il tema del raddoppio. Un'idea nostra è quella di, che non è solo nostra, è quella di copertura totale della stazione. Quindi cercare di chiudere quel tratto, per essere chiari, dall'università fino al chilometro zero, chiudere quel tratto e far sì che i treni passino dentro la città ma siano assolutamente invisibili.